Posso? Avanti, accomodate. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Marescia, vorrei fare una denuncia. A disposizione. Niente, io ho letto sul diario di mio figlio che mi vuole accoltellare. Mi vuole ammazzare con un coltello. Signore, fin quando non succede il fatto noi non possiamo intervenire, abbiamo le mani legate. Non sarebbe. Ma lui mi vuole uccidere, mi vuole ammazzare. Ho capito, però abbiamo le mani legate. Ah, questo è l'Italia. Questo è l'Italia. Tu vieni, fai la denuncia e poi niente. Io rischio di morire. Signore, come glielo avevo spiegato, abbiamo le mani legate. Non in francese, in inglese, in spagnolo.